Terzo anno consecutivo per Garda con Gusto, organizzato dal Comune di Toscano Maderno attraverso l'assessorato al turismo, l'assessore Hermes Buffoli, un appuntamento importante ai ristoratori impegnati per circa 10 giorni per questo evento in cui i protagonisti saranno i prodotti locali Hermes Buffoli. Terzo anno in collaborazione con l'Istituto Alberghiero ci troviamo proprio nel giardino dell'Istituto dove poi avverrà la finale, la premiazione. Sì, siamo arrivati alla terza edizione, quest'anno rispetto agli anni precedenti a richiesta anche degli operatori e dei ristoratori che sono nove che aderiscono alla rassegna, si è ampliato il periodo dell'iniziativa che parte il 29 di aprile e terminerà il 29 maggio, quindi a tutto il mese di maggio, per tutto il mese di maggio sarà possibile degustare a prezzo convenzionato di 30 euro dei menu tipici, caratteristici del nostro territorio a base di pesce di lago per l'appunto e con un disciplinare rigido che prevede l'utilizzo dei prodotti locali, quindi dall'olio, i due frontoi che ci sono a Toscolano che aderiscono all'iniziativa dalla rassegna, alla torta Maderno che è un dolce caratteristico del nostro territorio, ai vini della Valtenesi, del Garda in generale e all'acqua Tavina, alla farina di Bedizzole che è macinata ancora con gli antichi metodi ormai dei primi dell'Ottocento con la macinazione a freddo. A questo si unisce per l'appunto l'aspetto formativo, i ragazzi di Ristituto alberghiero che a fianco dei ristoratori nei fini settimana avranno modo di lavorare, di operare con gli stessi in un programma di alternanza scuola-lavoro e quindi di unire anche l'aspetto della formazione a quello della ristorazione. Francesco Mulla, sei il dirigente scolastico dell'Istituto Catena dei Medici di Gardone Riviera, si parte con questo Garda con Gusto, anzi si riparte per la terza edizione, i vostri ragazzi saranno impegnati a fianco dei ristoratori per lavorare ovviamente ma anche per fare professionalità, per fare istruzione. Quello che a noi interessa molto è inserire ragazzi all'interno del tessuto economico locale, vocato diciamo, fortemente vocato per motivi storici al turismo, alla ristorazione e alla ricettività alberghiera e quindi è necessario da parte nostra costruire come dire una professionalità che sia a stretto contatto con gli operatori locali. L'esperienza esterna forse è molto più importante di quella interna anche perché lì è contatto vero dal lavoro. Sicuramente, però i rischi che i ragazzi trovano fuori sono quelli che poi trovano anche i laboratori a scuola, quindi non è che loro sono perfettamente abituati a usare il gas, le fiamme, tutto quello che riguarda la cucina eccetera. Poi l'organizzazione è molto valida, abbiamo dei collaboratori che si interessano in tutti gli aspetti legati non solo assicurativi ma anche diciamo alla valutazione dei rischi eccetera, quindi i nostri ragazzi sono in un ambiente protetto come a scuola.